A suo carico l'accusa di aver raggirato diverse persone prevalentemente anziani residenti a Galatine e dintorni all'inizio dell'anno. La donna avrebbe contattato le vittime spacciandosi per funzionaria dell'Inps o per impiegata del comune e con modi persuasivi le avrebbe convinti a consegnare i risparmi custoditi in casa. Scalora Rasizzi, 41 anni, è stata arrestata in Sicilia nel suo paese di origine, Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Gli agenti del locale commissariato le hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Vincenzo Brancato. La truffatrice si trova ora nel carcere di Catania.